Amici di SS Fanta, siamo qui per un nuovo video per parlare del caso di questi giorni, ovvero di Duvan Zapata un caso che sta spaventando, ha spaventato un po' i fantallenatori e ha messo anche in crisi diverse leghe proprio per la gestione di questo caso perché al momento è un caso molto più difficile rispetto a quello di Gabbiadini ad esempio perché comunque Gabbiadini aveva una rottura del crociato, stagione finita, lì nessun dubbio, comunicato ufficiale quindi chi lo poteva sostituire l'ha sostituito, dipendeva dal regolamento ma una gestione abbastanza facile tra virgolette, nel senso che c'erano comunque dei comunicati c'erano delle notizie certe, c'era anche una linearità nelle varie leghe quindi chi può sostituire un giocatore col crociato rotto lo può fare, è abbastanza facile diciamo tra virgolette Zapata è molto più complicato perché i tempi sono al momento ancora incerti e difficilmente si avranno poi delle notizie certe certe da qui alle prossime settimane è una situazione in evoluzione che sapete, che avrete sicuramente letto anche sulla nostra app SS Fanta tempi che dovrebbero essere al momento diciamo intorno ai tre mesi quindi si va dai due ai tre mesi se Zapata decidesse di non operarsi quindi al momento l'opzione più probabile è questa ovvero una terapia conservativa, Zapata preferirebbe non operarsi e quindi provare a rientrare senza intervento i tempi sarebbero un pochino più brevi quindi appunto questa è la migliore delle ipotesi che è intorno ai tre mesi diciamo che sono due mesi e mezzo di recupero più un paio di settimane per la riatretizzazione che ovviamente anche nel caso di Zapata sappiamo essere, lo dimostra anche la ricaduta molto delicata proprio per la struttura fisica che ha quindi ovviamente si andrà con la massima prudenza i tempi a punto di vista del calendario, delle partite che ipotizzano sia Sky che la Gazzetta dello Sport diciamo che si parla delle ultime 3-4 giornate di campionato poi magari se dovesse andare tutto molto molto bene magari anche 5-6 però non prima di metà aprile sicuramente da metà aprile in poi si potrà eventualmente parlare di quella che sarà la partita del ritorno ma come detto la prudenza sarà massima dipenderà anche dagli obiettivi che si giocherà l'Atalanta ovviamente dalle sensazioni dello stesso Zapata ovviamente non vai a rischiare se mancano solo due partite alla fine rischi poi di farti male di nuovo e di comprometterti poi la stagione prossima quindi quando si arriva così a ridosso della fine della stagione ci sono anche diversi ragionamenti da fare ad esempio se ci fosse un eventuale finale di Europa League dell'Atalanta allora lì magari può esserci sì un obiettivo specifico per provare a tornare se no diventa anche forse inutile e dannoso accelerare i tempi per poi giocare una partita e tornare in vacanza per un altro mese quindi è una situazione tutta ancora da valutare e specificiamo ancora questa di tornare per le ultime 3-4 partite è comunque la migliore delle ipotesi al momento perché la peggiore è sempre quella di operarsi che è un'ipotesi sempre comunque possibile non escludere anche se come detto Zapata preferirebbe lui non operarsi quindi andare con la terapia conservativa come ad esempio sempre dal professor Rava in Finlandia aveva fatto Cristante negli anni scorsi però anche tanti altri giocatori invece poi si sono dovuti operare dipende anche dal quadro clinico da come saranno le risposte quindi magari ipotizziamo può andare con la terapia conservativa per qualche mese poi si vede che non dà i frutti sperati allora lì si interviene con l'operazione è chiaramente un infortunio molto molto delicato l'Atalanta dal punto di vista ufficiale dei comunicati per il momento ha solamente detto che ci saranno di nuovi controlli quindi ancora al momento diciamo non si opera ad oggi però ancora non è comunque escluso che dopo questi nuovi controlli possa essere presa una decisione del genere quindi c'è ancora incertezza quindi questa è la chiave diciamo la parola chiave è incertezza sui tempi delle possibilità nessun comunicato ufficiale nessun... anche da parte magari uno dice mi affido alla gazzetta, mi affido a Sky Sport però anche da parte loro ci sono comunque delle ipotesi non c'è un articolo che dica tre mesi di stop quattro mesi di stop con i giorni esatti perché sarebbe impossibile quindi per tutte le leghe che hanno magari la regola della stagione finita ovvero di sostituire un giocatore se la sua stagione è finita come era stato con Gabbiadini oppure la regola dei tre mesi che si può sostituire un giocatore se sta fuori per tre mesi diciamo che in questo caso le regole non si possono applicare perché non è vero non è sicuro che la sua stagione è finita almeno non si può dire adesso e non si può sapere con certezza se i mesi saranno precisamente tre perché magari torna in campo dopo due mesi e 25 giorni come dall'altra lato può anche essere finita qui la sua stagione questa è chiaramente un'ipotesi perché ben detto dell'operazione ma anche senza operazione la stagione diciamo è comunque compromessa poi magari non finita ufficialmente però sicuramente il grosso della stagione se Duvan se l'è giocato quindi non è neanche chiaramente ad escludere che poi Duvan anche senza operazione possa non tornare in campo per questa stagione però si saprà probabilmente se non arriveranno delle decisioni prima solamente verso la fine proprio verso maggio quindi in questo momento chi ha questo tipo di regolamenti non può intervenire perché non ci sono delle ufficialità non ci sono dei comunicati ovviamente li aspettiamo nei prossimi giorni nelle prossime settimane da parte dell'Atalanta per avere una maggiore chiarezza che può aiutare chiaramente i fantallenatori perché appunto visto che queste regole non si possono applicare se avete ovviamente queste regole nel vostro fantacaccio però c'è comunque chi può andare a sostituire Zapata perché ci sono dei regolamenti diversi perché magari qualcuno può avere ancora la stagione di riparazione ovviamente se ne avete la possibilità quello che consigliamo è di approfittare di questa tre regolette fortuna quindi non tutti chiaramente anzi non sono in tantissimi ad avere la possibilità di poterlo svincolare allora qui anche se comunque ci arrivano delle domande ma quindi lo svincolo lo svincolo lo spetto visto la situazione attuale visto che al momento le informazioni sono queste meglio essere diciamo pessimisti e sostituirlo adesso se potete prendendo uno di quei giocatori che può essere ancora nell'istone sicuramente c'è Giovinco perché Giovinco è appena arrivato e quindi non era stato preso nella vostra asse di riparazione quindi comunque Giovinco è un giocatore che potete andare a prendere e poi gli altri che sono rimasti liberi quindi che all'asse di riparazione nessuno ha preso ovviamente non si tratta di nomi di primissimo livello dipende anche molto se la Lega è da 6-8 partecipanti o 10-12 dove ovviamente 10-12 scasseggiano perché magari anche giocatori come Manai e Nani che possono essere delle idee sono stati già presi in leghe numerose però a 6-8 leghe con meno partecipanti anche degli svincolati da altri partecipanti a gennaio ci potrebbero essere perché abbiamo visto svincolare magari Quagliarella addirittura Belotti che sarebbe un nome molto importante per sostituire Zapata quindi il Gallo se è libero lo potete andare a prendere magari anche Pavoletti quindi ci possono essere comunque dei nomi chiaramente nessuno è Zapata non esiste un altro Zapata nel mercato degli svincolati a meno che chiaramente non sarebbe certo Zapata però a meno che comunque l'Atalanta non vada a intervenire sul mercato per prendere uno come Pelleo Diego Costa quindi si parla di possibili svincolati per l'Atalanta anche se al momento la società non sembra intenzionata a intervenire però magari è una decisione che sarà presa più avanti comunque fino a marzo c'è tempo da parte dell'Atalanta di poter intervenire quindi un po' questa è la situazione anche per quanto riguarda i possibili svincolati poi lì dipende veramente molto di Lega in Lega semplicemente guardate quella che è la lista rimangono pochi nomi quindi è anche una scelta che diventa tra virgolette facile a questo punto perché con l'asta già fatta gli attaccanti non sono molti appunto sicuramente giovinco libero poi dipende un po' anche da chi è stato svincolato nella vostra Lega magari mi viene in mente anche il nome di Rebic di Keita del Cagliari ci possono essere magari giocatori che sono rimasti giù diciamo nel listone una situazione da analizzare nessuno sarà Zapata però quello che il ragionamento che facciamo è che sì da un lato magari può essere anche romantico aspettare Zapata magari potrebbe anche provare a tornare prima perché veramente certezze non ce ne sono però visto un po' quello che sta succedendo con veramente tantissimi infortuni quello di Zapata quello di Gabbiadini dei giorni scorsi veramente tantissimi quest'anno anche i casi di covid che ci sono stati in una situazione del genere se ne avete la possibilità è più saggio andarsi a coprire anche perché Zapata probabilmente è il vostro primo slot quindi tolto Zapata avete 5 attaccanti che non sono magari titolarissimi o di primissimo livello poi magari c'è chi ha Giopedo Berardi e tutti questi titolari allora magari uno con 5 titolari si sente al sicuro e dice vabbè aspettiamo Zapata e magari mi fa le ultime 3-4 però se avete già quei giocatori che possono essere un po' in ballottaggio come appunto prima citavamo Rebic o comunque questo tipo di attaccanti che magari una sì una no subentrano allora lì meglio coprirsi prendere uno come magari appunto Giovinco o altri che pescate magari Giase dello Spezia se ancora libero questi titolari che sicuramente non vi cambiano la stagione però vi possono permettere magari di fare un tridente che comunque non è poco fare un tridente poi ovviamente con queste coperture in panchina almeno è già qualcosa se no rischia di arrivare a maggio Zapata magari fa pure queste 2-3 partite però voi siete già settimi ottavi e quindi magari ve ne fate anche poco quindi anche qui da capire da analizzare anche la vostra situazione di classifica gli obiettivi che avete per questo fantacalcio perché comunque siamo già fantacalcio inoltrato quindi avete già un'idea se potete puntare davvero al podio o se magari invece preferite siete già fuori quasi dai giochi però magari avete una coppa nelle ultime 4-5 giornate allora lì magari preferite aspettare un quasi comunque miracoloso recupero di Zapata per non avere appunto uno di questi 3-3 scarti che vi prendete al listone quindi è una situazione che veramente rispetto dicevamo a Gabbiadini molto molto diversa perché c'è incertezza anche nelle varie leghe non si sa bene come procedere non si ha una lista precisa di giocatori da prendere perché variano molto di Lega in Lega chiaramente discorso diverso per chi ha l'asse di riparazione ancora da fare allora lì molto più semplice tra virgolette si svincola Zapata si può anche avere un grande incasso e lì i nomi sono diversi Cabral Piontek Beto Cabrari quindi sono ancora tutti quei giocatori liberi allora lì diciamo che stra conviene andare a svincolare Zapata per poi potersi prendere magari anche un Sergio Oliveira a centrocampo quindi lì prendetevi e rifate la squadra che credete incassati da Zapata però quello è un altro discorso se invece non avete nessun tipo di possibilità di svincolarlo di intervenire e avete un attaccante in meno magari avendo pure già Gabbiadini o comunque altri attaccanti che non vi danno garanzia allora lì l'unica rimane se li avete fare gli scambi e sacrificare nel caso un centrocampista per avere un attaccante in più quindi l'unica arma in quel caso sarebbe quella di fare scambi e di sopperire così all'assenza di Zapata che però rimane in ogni caso una mazzata quindi anche se vi prendete Giovinco altri giocatori però comunque Zapata non ve lo ridà nessuno perché uno come lui nell'istone non c'è neanche negli scambi potete prendere potete prendere anche un altro buon attaccante però comunque sacrificate un centrocampista o un difensore quindi il danno comunque è stato fatto la speranza è che Duvam possa veramente almeno tornare in questo finale di stagione però rimane come detto difficile e poi l'ultimo appello di non cambiare i regolamenti delle vostre leghe di rimanere fedeli a quello che avete fatto fin qui perché veramente ci manca solo poi mettersi a litigare o non trovarsi su qualcosa in questa situazione quindi l'appello è questo a fare anche magari i regolamenti più chiari possibili e se qualcosa avete visto che è andato storto in questa stagione appunto con questi casi di Zapata dei portieri che ci sono stati di Gabbiadini mettere dei regolamenti e pensarli già per la prossima stagione devo dire che quest'anno si è visto davvero di tutto dal punto di vista delle assenze le partite rinviate quindi guardate quello che è successo se qualcosa non vi è piaciuto potete cambiare i regolamenti e intervenire ma dalla prossima stagione e quindi dal prossimo agosto su Zapata è tutto seguite come sempre la nostra app per avere gli aggiornamenti sempre in tempo reale sui tempi di recupero di tutti i giocatori quindi non solo Zapata ciao